Io ho iniziato YouTube quando YouTube è ancora da sfigati, cioè non è la nuova opzione al calciatore. Adesso a me fa un po' paura che a otto anni dicano voglio fare lo YouTuber da grande, perché è un pochino l'idea del voglio fare il calciatore da grande, cioè soldi facili, zero sforzo. Non è così, fatelo subito allora, perché così capite che non è così e ve lo togliete subito dalla testa.